Importante riconoscimenti per l'olio extravergine di oliva del comune di Cavriglia. In questi giorni due aziende olivicole del comune sono state insignite di premi in America. Si tratta dell'olio della tenuta agricola San Jacopo che ha ricevuto un premio a New York e l'azienda agricola Potere Buoggioli premiata invece in quel di Los Angeles, la capitale con Beverly Hills e il G7 cinematografico americano. Il segreto del successo del nostro olio nasce da varie componenti che partono dal territorio soprattutto, quindi particolarmente votato. Dalla qualità delle piante, dalla cura che viene data a queste piante, noi tra l'altro le coltiviamo col metodo biologico, quindi niente prodotti chimici particolari o pesticidi e una grande cura soprattutto nella raccolta e nella frangitura che avviene tutti i giorni per la quantità raccolta. Quindi le olive non aspettano troppo tempo nelle cassette o nei sacchi. Difficile dire, con grande sacrificio direi, tanto lavoro. Ho dovuto imparare tanto dai miei vicini di Montegonsi durante gli anni, poi abbiamo aggiunto delle tecniche più moderne, diciamo, e poi man mano l'olio si è migliorato. Forse questo è un trend generale comunque, che l'olio, la qualità dell'olio, non solo di Gabriele, ma della Toscana, è in aumento. E poi adottando tecniche e prassi, come per esempio portare gli olivi appena possibile alla frangitura, questa è una cosa molto importante. E poi con l'aiuto del Comune e della Provincia, devo dire, per la promozione dell'olio abbiamo avuto sempre un appoggio molto importante. Grande la soddisfazione anche dell'amministrazione comunale cavrigliese, che da sempre ha cercato di valorizzare uno dei prodotti tipici della Toscanità, conosciuto in tutto il mondo. La promozione dell'olio locale ha avvarcato l'oceano, arrivando prima a New York e poi a Los Angeles. Quindi possiamo affermare che finalmente l'olio cavrigliese è conosciuto in termini mondiali, annoverandosi appunto tra i migliori oli, non solo del bacino del Mediterraneo, ma anche a livello mondiale. Grazie a tutti!